Non possiamo negare che la vita sociale ha sofferto e soffre ancora continui campiamenti e purtroppo non sempre nel campo positivo, ma specialmente nel settore negativo. E da questa situazione è necessario tutti, buoni e cattivi, responsabili e irresponsabili tutti, prendere una decisione per salvare la situazione della società moderna partendo proprio dalla famiglia. Vediamo alcuni aspetti positivi della famiglia. Oggi si ha più attenzione alla libertà di ciascuno, si pensa alla responsabilità rispetto alla vita sociale e alla vita della Chiesa, si condanna la violenza e la disonestà, eccetera. Però vi sono anche degli elementi negativi della società moderna. Abbiamo quindi rapporti freddi tra genitori e figli, ma rapporti freddi anche molte volte, direi più del necessario, tra mariti e moglie. E l'aumento dei divorzi, la maggiore libertà sessuale, la piaglia dell'aborto. Oggi, come oggi, sembra tutto permesso anche perché c'è un'idea di fonte che circola sotto voce e che fa strage. Ma chi lo dice che dobbiamo vivere in questo modo? Dio? Ma esiste Dio? Ecco il punto grande interrogativo, la grande crisi della società moderna. Il grande punto interrogativo è se esiste Dio. E se non esiste, allora non esiste il paradiso, non esiste l'inferno. Mangiamo, beviamo e quindi ritorniamo alla società antica che era libera di fare il comodaccio proprio. E quindi allora abbiamo le varie situazioni che stanno dominando nella famiglia. E quindi bisogna prendere coscienza. Ogni cristiano deve essere responsabile della situazione. Non può dire io penso a me stesso, penso alla mia famiglia. È troppo poco. Si è responsabile davanti a Dio e agli uomini di essere chiamati ad essere apostoli del Vangelo di Cristo. Come i discepoli di Emmaus, la coppia cristiana fa un cammino insieme a Gesù. Nella testimonianza della parola di Dio. Con l'educazione dei figli in una vita cristiana facilmente si sottovaluta questo punto dell'educazione dei figli. Perché per educazione generalmente si parla di comportamento civile, ottimo, necessario. Ma non è solo quello. Tant'è vero che quando poi il ragazzotto diventa giovane è difficile guidarli, è difficile che ritornino alla sera a casa proprio, non curandosi che magari gli stessi genitori stanno dietro alle finestre per vedere quanto il loro figlio o la loro figliuola ritorna dalla discoteca. E quindi allora sono principi importantissimi. Se si vuole il figlio bravo, il figlio onesto, il figlio giudizioso, il figlio di famiglia cristiana, è necessario gettare le basse sin da quando sono piccoli. E allora avere un atteggiamento tutto particolare per non sottovalutare anche la crisi del dolore, della gioia, del sacrificio, della preghiera. Con accentuata indissolubilità del matrimonio, oggi come oggi che sembra che il matrimonio non esiste più come sacramento, accettare i doni della maternità riscoprendo la famiglia chiesa domestica. Il concilio Vaticano II ha messo molto bene l'accento su questi due termini. Non la casa dell'uomo, non la casa di una famiglia cristiana, ma una chiesa domestica. E nella chiesa domestica si ride, si scherza, si mangia, se c'è il dolore, se c'è la malattia, si soffre, ma sempre insieme a Gesù. Padre Pio ci ha dato questa testimonianza. È un esempio del suo apostolato, qui a San Giovanni Rotondo. Viene e trova un deserto, nulla. Quando lui muore, lascia il deserto fiorito, una città poggiata sulla santità della vita, una vita cristiana. Grazie a tutti.